Pa! Pa! Sono entrata! E niente, ce l'ho andato a fare lo stesso, poi c'è il luogo della storia, ma eravamo... eravamo i 136... Ma eravamo i 136 invece che i 150... Sei passata la ciucca, eh, però, porca... Porca Dio! No, dai, sì, dai, la ciucco, dai, in botta... Ma perché ero stava? Ma sei sempre ciucca! Sarà più difficile, più faccio che sei ciucca a te che a me! Ma vai! Oh, ma sì, mi fai diventare spaventare! Oh, ma noi c'ho le foto che parlano, eh! E io c'ho le foto di te che dormi! Eh, avevo capito, però io dormivo, tu invece... Dove l'hai vista quella foto, Silvia? Eh? Dai, vieni a spazio! La foto, dove l'hai vista? Eh, ce l'ho di là, da lei! La messa in Natale! Adesso devono decidere se staccare il papa e metterci la mia foto quando dormo! Ah, direi che è un momento! Oh, ma qua come siete, tranquilli? Eh? Tre paparazzi! Ehi! Ma adesso... Non si vede che sono finanzati! E' altri due che mi riprendono a me! Ok, mi piaccio? Scintilla? Un guida senta il mio numero di telefono! Eh, vabbè! Sono disarte, Silvia! E basta bene! Però oggi erano buone! Se hai le fratelline, dal cazzo! Hai visto? Sì! 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 Oh, vuoi che sei lì? Sto giudando in camera! Erano come quelle dell'anno scorso, ne? No! 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 Domani ferro a YouTube! Eh? Domani sei su YouTube! No, stanotte! Divento famoso? Sto notte! Sì! 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 Grazie! Sì! Mi sa che anche il cuore di marcia! Non metto sempre niente! Anche il tuo! Devi sbottare! No! Vabbè! Non mette il tre piedi! Vabbè! Noi faccio nulla da carne! Grazie! Oh, Michi! E altre volte che lo dici! Ce lo stai rompendo proprio! Eh! O stai o vai! Meli! Ma sei indecidio! Eh! Intanto dove cazzo lei? Ho capito il palline! Hai visto? Perché non le dai una mano? Eh? Ma io li fa un bacchia grossa! Esi che ero sono di quelli che mi blocco costo! Eh! Vedi! Eh! Guarda! Io sono pazzo, poi tra un... tra vent'anni faccio un movimento del cellulo e mi portate a San Martino di usire oh porca puterra sono altri 4, 5, 6 mesi di fondare circa buono per cui? e poi te lo toglie Roby la prossima volta la prossima volta lo toglie Roby chi è Roby?